Sì, sì, qualche album. Stai preparando un nuovo album? No, sì, sto preparando, sì, ci sto lavorando. Stai lavorando? Solo che comunque dopo Amomi sarà difficile, insomma, è molto difficile, come dire, riuscire a trovare, non a trovare, ad elaborare, a trovare dentro se stessi, dentro le cose di qualcosa che possa essere così bello, anche così profondo, così, spero di riuscirci, che non mi vanno a vivere il tuo design. Quindi stai lavorando sui sentimenti, sugli stili? No, sulla verità, sulla verità, sull'essenza delle cose, sul suono, sto cercando di fare un ottimo lavoro, speriamo di riuscirci. Se partire da base sarà bellissimo, vuol dire, cioè, ovviamente il lavoro era fatto con Pagani, lo dico da produttore di Radio Supermax, insomma, adatto di cappello, veramente un grande lavoro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.